Rosario, due parole sulla Gelbi, sono due parole su questa nuova stagione del tutto diversa c'è il ritorno di Fabio De Luca, c'è la conferma di importanti giocatori come Manzillo, Bernardino D'Agostino e tanti altri, Ennis Mejory qui davanti a me come si prospetta per te dopo aver visto la prima partita in casa, l'esordio in casa? Innanzitutto buonasera, benvenuti qui in piazza Vittorio Emanuele io vi saluto tutti, innanzitutto faccio i complimenti a chi ha pensato questo tipo di soluzione quindi questo aperitivo, ringrazio anche il bar Black & White che ha ospitato questa sera questa presentazione della squadra questo è importante per far capire che la Gelbison è una squadra di tutti, vicino a tutti e da questo punto di vista mi viene subito in mente un invito, invito tutte le persone qui presenti di fare il passaparte, è importante essere presenti sul campo è importante abbonarsi alla Gelbison perché è vitale, è una squadra di un paese che da quanti anni sta in Serie D le difficoltà sono sempre tante, l'amministrazione, il comune è sempre vicino alla squadra cerca di dare una mano per quel che può ma soprattutto c'è bisogno di un aspetto economico che non passa in secondo piano quindi vi invito assolutamente a fare sia i mini abbonamenti che sono un'altra ottima idea e sia gli abbonamenti poi faccio un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi domenica sinceramente li ho visti benissimo però c'è molto da migliorare tantissimo da migliorare però la squadra mi è piaciuta soprattutto dal punto di vista dell'affiatamento sembra già una squadra rodata e di partite ne ho visto e ne ho commentato tante della Gelbison quindi è una squadra che ho visto subito ben rodata faccio il bocca al lupo per quest'annata grazie